Buongiorno, oggi con i miei amici ci troviamo a Riva del Garda. E' un posto bellissimo, mi sto emozionando, straordinario. A tutti i miei amici, io sto iniziando a mezzo, i miei amici di Piazza. E' un altro video. Il video è un mostro uso. E' un stadio di Piazza. Ciò che si rivers spie, anche le ha chiamato aranonelle. E' un altro video. Una mamma che non so più cedì Mi trovo ai piedi dell'ascensore panoramico Bastione Ma non saliremo per due motivi Il primo è perché ci scade il tempo della macchina E il secondo credo che sia il più importante Abbiamo una gran paura Meglio andare via Ci saranno altri posti e altri luoghi da vedere Da quando sono in questa località Non ho trovato nulla di vegano Adesso siamo in un ristorante Al massimo pasta, olio e peperoncino Vabbè, visto che devo mangiare i carboidrati Ho preferito la mia pizza preferita La solita Insaporiamo con olio e peperoncino Nel frattempo l'atmosfera è cambiata Ci sono nuvole e il vento è anche aumentato Si sente? Quanto sono belli E ce ne sono altri Belli E pensare che c'è gente che se li mangia Io non capisco con quale coraggio si possa fare Questa è una portata del mare Da una vita che non vedevo un cigno Guarda di là, quello è il marito Di chi? Loro sono sempre insieme Il marito della cignia Eccone un altro Due ce ne sono Ciao Ciao Ma è con i temi di chia Ciao Ciao Se vi capita di venire qui al lago di Garda Tour 30 minuti 6 euro Ne vale proprio la pena Ciao 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 Ciao